Entrate nella nuova era del riposo, con Fabricatore. Il futuro è qui e per dimostrarvelo, oggi vi presento un materasso assolutamente nuovo, il Body Memory Plus. È più elegante, più ergonomico e anche più conveniente. Infatti, grazie alla nostra imperdibile offerta promozionale, potrete averlo con uno sconto lancio del 60%. Fidatevi, per stare meglio, bisogna dormire meglio. E con questo nuovo materasso è finalmente possibile. Chiamate subito il numero in sovrimpressione. Fatevi del bene. L'innovativo design del Body Memory Plus è progettato per sostenere ancora meglio la vostra schiena e donarvi il riposo che meritate. Scegliete il Body Memory Plus. È un materasso rivoluzionario, tutto merito del modo in cui i suoi due diversi lati si compongono. Il primo lato è il lattice di altissima qualità, un materiale che oltre a essere traspirante è anche antiacaro. Per questo può regalarvi un riposo sereno e privo di allergie. Per sempre. Ha ben sette zone di densità diverse. Ciascuna di esse è stata studiata accuratamente per sostenere ogni parte del vostro corpo. È adatto a chi dorme sul fianco, a chi preferisce dormire di schiena e a chi riposa a pancia in giù. Con questo materasso darete un nuovo significato alla parola riposo. Il suo secondo lato, infatti, è in memory. Si tratta di un materiale innovativo, frutto della ricerca aerospaziale. Questo lato è stato realizzato per modellarsi esattamente alla forma del vostro corpo. È perfetto per ogni corporatura e per ogni età. Addormentarsi facilmente dovrebbe essere normale, ma quando non si è più giovanissimi spesso diventa davvero difficile. Con Body Memory Plus sarà più semplice. Questo materasso vi aiuterà a rendere ancora più piacevole il vostro sogno. È proprio così. Il Body Memory Plus unisce in modo innovativo l'elasticità e la traspirabilità del lattice all'estrema comodità del memory. Un materiale capace di sostenere il nostro corpo, assumendone perfettamente la forma, per poi tornare al suo stato originario. Il Body Memory Plus è rinnovato anche nel tessuto e ancora più curato nella lavorazione, merito della sua qualità 100% made in Italy. Una qualità che, come quella di tutti i materassi fabbricatore, è garantita 10 anni. Solo per un brevissimo periodo, grazie al ripetibile scontolancio, potrete avere il materasso singolo a 278 euro anziché 695 e quello matrimoniale a 398 euro anziché 995, pagabili anche a rate. E in regalo anche due cuscini in memory, che valgono oltre 100 euro. Sono unici e comodissimi, come tutti i cuscini fabbricatore. Potete acquistarli anche online, sul sito fabbricatorecuscini.it Chiamate subito il numero in sovrimpressione. Un incaricato illustrerà senza impegno a casa vostra il frutto della ricerca fabbricatore. Oppure visitate i nostri showroom, a Milano, in via Borgo Spesso, tra via Monte Napoleone e via della Spiga, e quello di Roma, in via Vittoria, vicino Piazza di Spagna. Fabbricatore, la ricerca del benessere.